e sì 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 ci siamo alla youtube del convento di lanato con loro le ragazze che vengono da da parma wow e siete qui a festeggiare una di voi vero ragazze lo dite voi il nome lo dite voi dai chi siete a festeggiare perché Elena sì ma qualcuno ha risposto a qualcosa ho sbagliato io ecco perché allora la rifacciamo perché Erika sì ecco perché non mi avete risposto a tutte Erika vieni qua avvicinati al microfono dimmi che cosa ti ha fatto innamorare del tuo futuro sposo la simpatia la simpatia allora funziona 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 no perché di solito uno è simpatico ma poi non conclude niente no giusto invece funziona quindi funziona quindi il tuo futuro marito è simpatico è carino anche sì sì ah voi lo conoscete tutte ragazzi ve lo siete fatte passare tutti no giusto la ragazza no 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 lei solo reggbisti eh ragazzi è giusto solo reggbisti è specializzata i reggbisti e voi invece siete specializzate in qualcos'altro no ok me ne presenti le tue amiche velocemente al microfono Valentina mia sorella Valentina tua sorella Diana Michela Susanna Sara Alessandra eccole qua tutte le amiche di Erika da Parma sì siete cariche eh avete voglia di cantare eh sì vi sentite delle mice sì fatemi un graffione da gattine ancora di più sì le ragazze di Parma le gattine di Parma allora siamo pronti che fate eh quella sta parlando da sola eh si lo microfono ah e parli da sola succede spesso ragazze eh ogni tanto sì ogni tanto nei tempi del liceo ah nei tempi del liceo che parla sì sì si 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 metteva a scaldare la voce sì sì anche durante le interrogazioni sì iniziava a platterare cosa assurda quando non sapeva niente in matematica e iniziava a far così fammi la scenetta di fammela eh così e dopo il professore pensava avesse dei problemi e non le dava i brutti voti ok perfetto Erika sei pronta? sì sei carica? sì le amiche di Parma sono cariche? sì e allora andiamo quella fai col balletto sì 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 le ragazze di Parma quella quella e la nostra Erika che si sposa wow wow le ragazze bellissime tre sorelle furbissime so tra le altre abilissime volto svegli agilissime con astuzia e perizia e in un mondo sempre un po' di furbizia mi riesco sempre a fuggire e nel nulla sparire oh 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 occhi di gatto oh 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 occhi di gatto oh 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 occhi di gatto oh 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 occhi di gatto e con colpito la si uso il piatto fuggendo poi con un abile scatto occhi di gatto un altro colpo è stato fatto il palletto delle ragazze di Parma sì sì tre panciulle spettissime tre bibette abilissime so tra le altre abilissime dolce ma modernissime senza forza né violenza quel che fanno è sempre tutto con prudenza sono pronte a rubare solo piano a sairare oh 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 occhi di gatto oh 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 occhi di gatto e questo è il nome del trio con patto so tra le sorelle che ha fatto un patto oh 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 occhi di gatto oh 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 occhi di gatto e la colpito la si uso il piatto fuggendo poi con un abile scatto occhi di gatto un altro colpo è stato fatto oh 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 occhi di gatto oh 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 occhi di gatto e questo è il nome del trio con patto so tra le sorelle che ha fatto un patto oh 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 occhi di gatto oh 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 occhi di gatto e la colpito la si uso il piatto fuggendo poi con un abile scatto oh 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 occhi di gatto oh 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 occhi di gatto e questo è il nome del trio con patto e questo è il nome del trio con patto oh 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 occhi di gatto oh 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 occhi di gatto e questo è il nome del trio con patto e brava e brava e le nostre ragazze si 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 le nostre micine i nostri occhi di gatto wow wow ragazze mi prendete la sposa e ve la e ve la stringete che che ragazzi erica erica se sta sposando allora fate fate un urlo per erica vai